Consorzio le vie del commercio, è in scadenza il suo mandato da presidente. Sì, sono un presidente scaduto. Quasi. E soprattutto è quasi terminato anche il concorso, ci diceva che a breve ci sarà l'estrazione. Sì, il concorso termina il 28 febbraio. Invito chi è in possesso dei grattevinci di grattarli in brevissimo tempo, al più presto, perché ci sono ancora tantissimi premi che non sono stati estratti. E quindi molti avranno sicuramente dei tagliandi vincenti in casa da grattare. Dopodiché il 9 marzo ci sarà l'estrazione finale dove assegneremo il viaggio a Tenerife, la bicicletta elettrica e verranno estratti tutti quei premi vincenti che non sono stati assegnati.